e bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video in questo video qua siamo su Brawl Stars perché appunto come vedete dalle mie coppe e come avete letto dal titolo arriveremo alle 22.000 coppe e poi vabbè ci spetterà la mega cassa come obiettivo da aprire comunque allora prima di iniziare con il video vi volevo dire intanto che oggi stesso ho registrato anche il video che sta già sul canale quindi troverete già sul canale ed è appunto il video dove uso per la mia prima volta Spike e Lou Maxato con la skin ReLou e poi vi volevo informare che io il 10 quindi mercoledì 10 febbraio insieme a Francesco ovvero in fine di Francesco perché appunto faremo una live su Fortnite faremo la nostra prima live su Fortnite io giocherò da quell'account alfax-pro ovvero l'account dalla play e da lì registreremo la live quindi mettetevi tutti le sveglie infatti e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così appunto rimarrete aggiornati appunto per la live e poi abbiamo deciso che a meno che proprio abbiamo casi proprio che non ci riusciamo in caso di oggi andiamo già in anticipo ma un mercoledì ogni due settimane quindi un mercoledì sì e un mercoledì no porteremo una live per ora di Fortnite quindi iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un mi piace per supportarci e per non perdervi nessun video e nessuna live che faremo io poi vi ricordo anche di entrare nel mio club i spazio m8ster spazio pro tutto maiuscolo e di andarmi a seguire sui miei canali social io senza perdere troppo tempo entrare in partita a fare le 18 coppe comunque io sto facendo un grado a test quindi tipo da grado 1 a grado 2 con Spike da grado 2 a grado 3 poi c'è poi la stessa cosa con Lu quindi un grado a test sto facendo infatti come coppe sono più o meno uguali e farò una partita a test vediamo poi se mi servono più partite perché devo fare 18 coppe che basta una prima posizione e poi una seconda posizione allora vai voi intanto scrivetemi nei commenti se appunto avete questi due brawler qua sia quindi Lu o Spike se ne avete uno dei due o tutti e due o nessuno scrivetemelo nei commenti e se avete perso andatevi a recuperare il video appunto dove li provavo per la prima volta e poi il video dove ho aperto 61 casse enormi nel ball pass della scorsa season una in questa season quella che stava sotto la skin di Beryl e una dal cammino dei trefai quindi ben 63 casse enormi e poi andatevi a recuperare tutti gli altri video che vi siete persi o di Brawl Stars o di Fortnite e ovviamente iscrivetevi con la campanellina attiva per non perdervi nessun video nooo terzo 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 va bene va bene questo si utilizza ReLoo quindi dai tanta tanta roba ho questo skin qua di ReLoo mi piace molto ma poi tipo invece di lanciare i coni gelati lancia diciamo queste uova poi secondo me il gadget lo dovrebbero mettere un pochino tipo quello di Maxini perché oltre a avere uno scudo protettivo si può spostare invece questo qua non si può spostare il press body mi ha utilizzato un'altra ulti però almeno gli occhi liate sono sopravvissuto ok voglio dire di fare questa reazione qua e di andare a provare a pushare no 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 non dire via dalla lontana voglio provarlo a pushare e a distruggere e a distruggere e a distruggere e a disintegrare secondi dovremmo essere arrivati perché esattamente secondi un bel più 8 ce lo siamo portati a casa adesso vediamo quanto copie ci siamo che non ce ne dovrebbero mancare 3 infatti 3 copie che facciamo con spike per portare spike a grado 9 scrivetemi scrivetemi nei commenti secondo voi anche che brawler dovrei maxare perché appunto posso maxare tutti i brawler che ho e se volete vedere anche quale maxare dovete sempre recuperare il video quello là dove ho aperto 63 casse enormi del vecchio brawl path io direi di non andarlo a pushare così troppo aggressivo che qualche danno glielo ho fatto gli ho fatto doppio 1600 che comunque è tanta roba io direi bello l'opettivo l'abbiamo già in ogni caso raggiunto delle 22.000 però proviamo ad arrivare in qualche posizione un pochino migliore se riusciamo se no continuiamo anche così anzi direi stra felice anche così comunque in una quarantina di minuti massimo tre quarti d'ora da quando appunto avevo registrato l'altro video sono arrivato appunto in questo abitivo come sono fatto circa un poco più di 200 coppe ovvero quelle che vedete appunto per due brawler dovrebbero essere 313 poco più di 120 ok mi ha chiedato quell'ambra va benissimo un buonissimo più 7 infatti ho fatto 126 coppe con spike u anche livello 149 di esperienza e poi ho fatto 113 coppe con l'u tanta tanta roba io direi di aprire la megacassa voi per portarmi fortuna lasciate un bel mi piace così mi poterete più fortuna se tanti di voi avranno lasciato mi piace troverò qualcosa dentro se solo pochi di voi mi hanno trovato mi piace si sono iscritti al canale non troverò niente quindi dipende tutto da voi 3 2 1 no solo delle monete vabbè io direi che comunque il video può finire quasi ma vedete ben 22.004 coppe e abbiamo portato spike a grado 9 l'u a grado 8 e il livello esperienza dell'account è al 149 io direi se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanina per non perdervi nessun video e per non perdervi la prima live che farò il mercoledì 10 febbraio insieme a Francesco ovvero infiniti Francis per fortnite e bad boy per broadstars e poi tutte le altre live che farò un mercoledì sì un mercoledì no poi se vi interessa entrate nel mio club vi servono 6.000 coppe il club si chiama i spazio m8 ster pro ster pazio pro e tutto maio maio scolo comunque ci sta anche il link in descrizione e se entrerete nel mio club diventerete socianziani ed avete la mia richiesta io vi invierò la richiesta di amicizia ed è l'unico modo per avere appunto la richiesta di amicizia noi siamo in 23 qua dentro il club e spero che voi vediate la mia prima live se volete potete donarmi qui in appunto in descrizione che troverete il link con scritto donazioni 2 punti e poi un link e io vi saluterò anche in un video e se volete potrò giocare con voi o a fortnite o a brawl stars e vabbè da me è tutto ci vediamo nel prossimo video e bella